Ciao, sono Rolando Alberti, conosciuto anche come Rollo, e sono qui per parlarvi di CiperTV. Che cos'è CiperTV? CiperTV è un canale web, video, dedicato al crossfit, o per meglio dire, come recita la nostra tagline, dedicato agli eroi, alle ragazze e ai loro VOD. È in pratica un contenitore, un contenitore di video che, seguendo un piano editoriale, vi proporrà periodicamente interviste, prove, recensioni e magari anche qualche cosa che suggerirete voi. La programmazione inizierà a maggio 2018. Tutta la produzione di CiperTV sarà esclusivamente in italiano. Come puoi immaginare, mettere insieme un progetto del genere non è proprio una pasteggiata, perché richiede ingenti risorse sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle persone, persone che si impegneranno a tempo pieno insieme a noi per realizzare i programmi e che naturalmente dovranno essere pagati a tempo pieno, in maniera tale da poter dedicare tutto il loro tempo solo ed esclusivamente ai nostri contenuti. Riteniamo che CiperTV debba essere una risorsa gratuita a disposizione di tutta la comunità. Tuttavia, prima di andare a regime, ci vorrà ancora un po' di tempo. Sicuramente una scommessa. Una scommessa è una sfida, proprio come piace a noi crossfitter. Una sfida alla quale invitiamo tutti quanti a partecipare attraverso il proprio contributo. Il nostro obiettivo è quello di diventare una voce della comunità italiana e di farci sentire forte e chiaro anche da quelli che sanno benissimo che esistiamo ma al momento fanno finta di ignorarci. Ma per fare questo, come già ho detto prima, abbiamo bisogno di alcune risorse. Ed è per questo che chiediamo aiuto a voi. Attraverso le vostre donazioni potrete aiutarci a raccogliere parte del denaro che ci serve per portare a regime il progetto. Il nostro business plan stima un fabbisogno di circa 350.000 euro per il primo anno parte dei quali sono già stati stanziati e messi a disposizione. Dal crowdfunding contiamo di raccoglierne 120.000 e sono proprio i vostri 120.000 euro che dovranno arrivare alle nostre casse attraverso le vostre donazioni. 120.000 euro sono una cifra, tutto sommato, abbastanza raggiungibile e verranno utilizzate principalmente per pagare stipendi a tutte le persone che collaboreranno con noi. 120.000 euro, se ci mettiamo tutti quanti, non sono tantissimi. Più o meno per ogni persona è l'equivalente dell'iscrizione ad una gara nazionale. A questo punto vi invito a visitare il nostro sito www.cipertv.com dove potrete ottenere maggiori informazioni e soprattutto fare le vostre donazioni. Grazie, vi aspetto!